Buonasera Si riapre ma stiamo riaprendo troppo o troppo poco e le priorità con cui sono state fatte le scelte di riaprire sono quelle giuste subito dopo la pubblicità. Buonasera 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 Qui si è deciso di ascoltare un po' le tante pressioni e secondo me si è fatto sicuramente un rischio calcolato, poi bene o male lo vedremo nell'immediato futuro. Lo vedremo nell'immediato futuro, Luca Atelese, cosa stiamo rischiando? Perché per esempio i professori Galli e Crisanti dicono che rischiamo di richiudere presto, le destre di Salvini e Meloni invece chiedono più coraggio, più aperture e quello di Draghi è l'unico compromesso possibile? Ma io meno male che c'è questo compromesso, esistono gli analfabeti funzionali per carità però esistono anche gli analfabeti cattedratici, Draghi non è un pazzo estremista che si inventa una strategia demenziale suicida, è un politico, anzi un presidente del consiglio che in questo momento sta svolgendo un ruolo politico che pondera i pro e i contro e decide. Meno male che ha deciso, voglio rispondere io alla domanda che ha fatto la Buralevi, io andrò di corsa al cinema e lo voglio godere distanziato, in sicurezza, con la mascherina ma non capisco perché non posso andare in un cinema, con tutte le precauzioni del caso, senza essere un analfabeta funzionale, cara Buralevi, come i tanti italiani che rispettano le regole e rispetteranno queste regole. Non facciamo niente di male e riaccendiamo il teatro e diamo lavoro al popolo dei bauli che picchiava nelle piazze, gente rimasta senza poter guadagnare un centesimo e riapriamo un po' di ristoranti. Meno male, perché voglio chiudere così, un anno fa quando a Conte venne rimproverato di aver commesso un gesto suicida non successe niente, perché per fortuna il covid virus che subisce moderatamente le influenze stagionali ci diede un attimo di tregua. Allora, diritto di replica Buralevi e poi De Luca. Grazie, proprio stiamo dicendo tutti e tre la stessa cosa, proprio perché il rischio è ragionato, gli italiani devono sapere con certezza delle cose che la propaganda politica dei partiti finora ha nascosto. Per esempio, delle piccole verità che secondo me sarebbe utile che il nostro primo ministro dicesse in un discorso alla nazione, da poi mandare al loop come istruzioni. Per esempio, che l'aerosol attraverso cui si viene contagiati è come la nuvoletta di fumo, resta sospesa nell'aria. Per esempio, che ci sono dei super spreader che possono contagiare moltissime persone, da assolutamente persone per bene che non lo sanno perché sono asintomatiche. Per esempio, che la variante inglese è una variante che uccide il doppio. E' un anno che lo sappiamo, lo abbiamo imparato tutti. Scusi, Telese, lei continua sempre a interrompermi, io non la interrompo mai, mi faccia andare a finire. Io vi faccio solo un esempio. Se noi informiamo correttamente gli italiani senza la propaganda, gli italiani attraverseranno questo rischio ragionato benissimo. E avremo un'estate davvero che non ci porterà come l'estate precedente al disastro della seconda e della terza ondata. Perché un dato fondamentale, e qui chiudo, è la latenza delle informazioni che ci vengono date. Quello che adesso ci raccontano che sta decrescendo, che in parte è vero, in parte no, perché poi spero di poter parlare della Lombardia. Allora, sono date che si riferiscono a tre settimane fa e noi dal 15 marzo abbiamo ridotto il contatto tra le persone. Quindi quello che faremo e che avremo a giugno dipende da quello che noi agiremo comportandoci, sapendo queste cose, prima nel mese che viene. Allora, Roberto De Luca, lei condivide questi timori e siccome lei rappresenta una delle categorie più colpite dalla pandemia, quella del mondo dello spettacolo, per voi è importante riaprire subito o avere la certezza che non si richiuda tra un mese? Beh, intanto devo dire che apprezzo assolutamente quello che il nostro Presidente del Consiglio sta facendo, perché immagino che lo abbia fatto, essendosi precedentemente consultato con sia l'Istituto Superiore di Sanità che con il CDS. E peraltro mi piace molto che non parli tantissimo gli italiani perché è molto impegnato a, come dire, a riunire i ministri per andare a cercare di ristrovare il problema che sia un problema economico, ma è anche un problema pandemico importante. Cosa vogliamo fare noi? Necessita fare un distinguo su cosa vogliamo fare noi. I grandi eventi, e pragmaticamente lo dico, i grandi eventi non si potranno fare, perché il distanziamento non è possibile, perché non è sensabile calare uno spettatore con un paracadute in un metro quadro di un campo sportivo o di uno stadio. E quindi questi saranno tutti rimandati al 2022, con, devo dire, gravissimo danno per noi, perché se nel 2020 abbiamo perso il 96%, nel 2021 perderemo il 100%. Quindi siamo tra le categorie più colpite, la prima a chiudere e l'ultima a riaprire. Però il distinguo deve essere fatto per ciò che riguarda quelli che si possono considerare come piccoli eventi o eventi medi. Quindi, laddove il distanziamento è possibile, quindi con il posizionamento delle seggiole, delle sedie in un'area... E sono, insomma, eventi più piccoli li potete organizzare già dall'estate? Da quando? Sì, ma certo, assolutamente dall'estate sì, ma non con un numero buttato lì di mille persone, pur apprezzando quello che il ministro Franceschini sta facendo per ciò che riguarda la musica. Bene, ora queste capienze vanno calcolate in funzione ai metri quadri. Ai metri quadri a disposizione, certo. Se io ho uno spazio all'aperto, i 2500 metri quadri, posso ovviamente metterci 2500 sedie. Sono distanziate un metro l'uno dall'altro, avanti, dietro, destra, sinistra, e quindi questi spettacoli si possono tranquillamente fare. Poi noi, diciamo come organizzatori, che organizziamo grandi eventi, siamo organizzati, siamo abituati a gestire i flussi e i deflussi, no? Quindi, voglio dire, probabilmente quando si dovranno alzare, il pubblico si dovrà alzare per uscire, bene, si farà come capita negli aeroplani, no? Per cui si alza la prima fila, poi la seconda fila, poi la terza fila. Poi dopo di che, negli aeroplani, poi si vanno nel pubblico e si è tutti attaccati. E saremo tutti più disciplinati, forse, Alessandro. No, assolutamente sì, probabilmente sì. Chi lo sa? Bisogna sempre rispettare il mondo della musica dal vivo, va rispettato. Eh beh, Alessandro, senti, voglio sapere cosa pensi tu, e poi aggiungere la questione delle destre, no? Che descrivono sempre le restrizioni come un muro da abbattere verso la libertà, sono grandi parole, non a caso Salvini ha parlato di lunedì, 26 aprile, come il giorno della liberazione, facendo riferimento a domenica, a domani, che è la festa della liberazione. Allora, questa impostazione aiuta poco il Paese, no? Quanto ci danneggia? No, vabbè, allora, io, allora, sentire paragonare la libertà che avremo dal 26 aprile con la liberazione del 25 aprile del 45 è sinceramente abbastanza offensivo, volgare e disturbante. Ecco, io eviterei questo accostamento che proprio non c'entra niente, visto che stiamo parlando di una libertà da un'oppressione, dal nazismo, dal nazifascismo, da una dittatura e soprattutto, insomma, fatta da forze politiche che non ho mai visto in prima fila, fianco all'ampia, i partigiani festeggiare gli anni precedenti, il 25 aprile. Quindi lascerei veramente da parte questo accostamento che, ripeto, lo trovo anche abbastanza volgare. Quello che succederà è che ci sarà una piccola riapertura e un patto, certamente, con i cittadini. Io ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto De Luca, vorrei capire come fare e anche quello che ha detto Luca Terese, verrei volentieri a teatro con te, se mi spieghi come facciamo a rientrare a casa per le 22. E quindi qui non è questione di essere di destra o di sinistra il coprifuoco, però dire, dire, riapriamo i teatri. Ma cambieranno gli orari, no, degli spettacoli? Ho capito, ma uno che c'è va a teatro alle 19, perché deve finire entro le 22.30, alle 19 a Milano la gente è ancora. Insomma, in tanti paesi nordici lo fanno da sempre. Sì, vabbè, da noi lavoriamo. Insomma, sono diverse culture in diversi paesi nordici. Io, guarda, io ceno anche alle 7 e un quarto, non ho problemi. Però ci sono molte persone che prima delle 21 non si mettono neanche a cena. E questa, ecco, io vorrei che per una volta non fosse una questione sempre politicizzata, per cui chi è per allungare il coprifuoco è salvignano o meloniano e chi è contro è speranziano. Non è così. Guardiamo le cose con il buon senso. Ti saresti aspettato un coprifuoco spostato dalle 22 alle 23, per esempio. No, allora, il coprifuoco, secondo me, cioè fare queste aperture serve a dare respiro ai ristoratori che possono avere un turno, due turni e questa è una cosa buona. Certo non si può accontentare tutti i teatri, basta sentire chiunque nel mondo del teatro non può riaprire. Come si fa a riaprire con un coprifuoco alle ore 22? Ma credo anche il mondo degli spettacoli o dei piccoli spettacoli. Come si fa? Si va a assistere a un piccolo concerto alle 19? È un po' dura, ecco. Faremo una presentazione di un libro alle 19 finché non verrà verificata una condizione tale da poter allungare il coprifuoco. E non deve essere una scelta politica. Hai detto bene. Non voglio che sia una scelta politica. Voglio che sia una scelta legata alle condizioni epidemiologiche di quel momento. Detto questo, sarebbe molto di buonsenso allungare di un'ora. Anche perché, scusate, sappiamo benissimo che a metà maggio potrebbe anche succedere che il coprifuoco verrà effettivamente spostato alle 23 o a mezzanotte, se i dati lo consentono. Se la vaccinazione, la campagna vaccinale produrrà un miglioramento dei dati, sicuramente. Scusate, io vorrei dire che il coprifuoco ha un valore psicologico alle 22, ha un valore di mettere un limite a liberi tutti. Anch'io sono certa che poi verrà spostato alle 11, ma certamente significa state attenti. Questo è il tema, perché se noi non diciamo a tutti noi, a partire da me, che certamente a teatro ci torno, però nei ristoranti, sinceramente, all'aperto, sì, al chiuso, magari meno. Perché, vedete, io vorrei provare a spostare il discorso su un tema un pochino più allargato. Noi dobbiamo renderci conto, secondo me, e oramai è un anno e mezzo che lo sappiamo, che la pandemia e il Covid non sono un ostacolo da saltare, sono un terremoto che ridefinisce tutto il nostro stile di vita, tutto il nostro modo di riappropriarci del nostro ambiente, di rispettare il pianeta, di abituare la nostra società a non creare disuguaglianze, cambiando radicalmente tutta una serie di situazioni e di strutture. Per questo è molto importante quello che Draghi e il Governo di Unità Nazionale si accingono a fare, perché il piano di resilienza è in realtà l'occasione, in cinque anni, di creare il fondamento per il Paese dei nostri figli. Ecco la cosa sbagliata, però. La Boraledi fa parte di quelli e vuole usare il coprifuoco per catechizzarci. Gli italiani non hanno bisogno di essere catechizzati. Non è una punizione di Dio e non è neanche una pedagogia il Covid. Quando i limiti e i numeri dicono che si può aprire, si apre senza che facciamo prediche. Non ho detto affatto quello. E così si capisce. Spero che lei impari a ascoltare i discorsi e a decitarli. Siamo responsabilizzati e da un anno che siamo responsabilizzati arrivano a responsabilizzare. Lei parla senza ascoltare. Io ascolto molto bene. Forse lei non sa quello che dice. Allora De Luca e poi Alessandro Milan. Se posso intervenire, voglio dire, in stati quali Inghilterra, Stati Uniti, gli stati del nord dell'Europa, gli spettacoli iniziano alle 20 oppure alle 20 e 30. Quindi in questa situazione di costrizione, nulla vieterebbe che gli spettacoli possano cominciare alle 20 tranquillamente. Ricordo che in ogni caso i festival cominciano alle 2 del pomeriggio. Quindi in questa situazione potremmo tranquillamente cominciare. E questo permetterebbe di riniziare a lavorare e di dare lavoro a tutte quelle persone che in questo momento non stanno lavorando. Perché il cantante non canta, l'organizzatore non organizza. Quello che viene definito invisibile non lavora ed è a zero introiti. È certo che è un grossississimo problema Alessandro Milan. È veramente uno dei settori più penalizzati, quello della cultura, dello spettacolo. Senti Alessandro, ma Salvini dice che essere alleati leali significa dire al premier quando sbaglia. Funziona così un governo di unità nazionale? Perché diciamo che Salvini usa anche un linguaggio molto aggressivo, molto duro nei confronti del Presidente del Consiglio. A Draghi dice una cosa, poi ai giornalisti e sui social dice il contrario. Insomma è un po' faticosa questa navigazione. Su questo secondo me dovrebbe essere così se fosse un governo di unità nazionale. Secondo me questo più che un governo di unità nazionale è un governo di necessità nazionale. Perché è una cosa un po' diversa. Ci sono dentro tutti, a parte Giorgia Meloni, ma per una situazione di necessità, che è inutile stare qui a ripilogare, la situazione pandemica e la situazione del recovery plan da mettere insieme. Ma non c'è unità, è un'unità forzata, è una necessità per l'appunto. E io sono sicuro che Salvini, che fa la sua solita strategia politica, sarà pronto nel caso a uscire un secondo prima di quanto non gli dicano che sia necessario farlo. E così anche il Partito Democratico, che sta cambiando molto con il ritorno di Enrico Letta, secondo me osserva con molta attenzione e digerisce un po' così con difficoltà la vicinanza con Salvini. E quindi non la vedo molto una grande unità nazionale, ma ognuno cerca di mantenersi coeso all'apparenza, ma cercando nel frattempo di tenere il piede in due scarpe e fare anche il proprio interesse politico, guardando alle imminenti o future o prossime elezioni. Per cui in un governo di unità nazionale sì, sarebbe bello che tutti si parlassero da amici. Io questa grande unità, se non forzata, non la vedo tantissimo. E tu Luca? Quello che avevamo pronosticato forse due sabati fa si sta avverando, cioè Salvini sta applicando il metodo governo giallo-verde al governo di unità nazionale. Solo che quello era un governo politico, in cui quella conflittualità, secondo me già sbagliata, poteva comunque essere spiegata. Il governo Conte 1. In un governo di unità nazionale avere un'opposizione continua, e poi un governo di scopo, che ha lo scopo di combattere la pandemia, è un controsenso. Quindi questa cosa o si risolve con la fine della conflittualità, o porterà alla rottura di questo governo o l'abbandono di Salvini. Non ci sono altre possibilità. Ci sono due mine ancora sul percorso. Prima c'è stato l'attacco a Speranza, ora c'è il voto di fiducia, in cui non credo che la Lega avrà il coraggio di votare contro, e poi c'è anche la commissione di inchiesta sul Covid, che viene agitata come una minaccia nei confronti di Speranza. Ora la domanda è, ma tu puoi stare in un governo e attaccare il ministro più importante per la pandemia di quel governo? Io non credo. Ma Draghi riuscirà a stare calmo? Lo chiedo a tutti voi. Riuscirà a non rispondere a provocazioni e a reazioni? Certamente. Lei pensa di sì, Antonella Boralemi? Perché Draghi ha un orizzonte internazionale, cioè ieri il Financial Times ha parlato di Draghi come il grande riformatore dell'Italia, perché la Merkel a novembre esce di scena e l'Europa avrà bisogno di un leader, e questo leader secondo me sarà il primo ministro italiano, cioè l'orizzonte di Draghi è molto più ampio di quello di Salvini. Io temo che l'orizzonte di Salvini purtroppo, poi vedremo se gli elettori in qualche modo capiranno o non capiranno, si fermi alla Lombardia. Questo è il tema. La sua Lombardia lei la critica ancora così severamente? Che adesso il piano vaccinale sta andando avanti bene, no? Ecco, guardi, lei ha toccato il punto. Mi dia solo rapidissimamente per spiegare perché voglio portare un fatto. Da una settimana in Lombardia si va sul portale delle poste, io ho provato e mi sono iscritta per la vaccinazione, e in un attimo col tuo codice fiscale trovi una serie di opportunità, di appuntamenti per farti il vaccino. Bene, tutto questo però succede da una settimana. Per quattro mesi la Lombardia non ha vaccinato, ha lasciato aspettare il vaccino e poi morire, e noi abbiamo già tante cause che sono state intentate dai parenti, per esempio a Brescia e a Bergamo, degli over 70 che non venivano vaccinati. Ha vaccinato i privilegiati, ha vaccinato senza organizzazione, ha lasciato vuoti gli hub che erano stati inaugurati con grandi passerelle da Fontana, che per inciso è la guida della regione Lombardia e è sottoposta a due indagini, una per autoriciclaggio e dal 31 marzo anche una per l'acquisto dei camici per gli ospedali durante il Covid dalla società della moglie del cognato. Allora, perché io le ho citato questi fatti? Perché lei vuol sapere perché prima le cose non funzionavano? Perché la Lombardia usava una società che si chiama Aria, a cui ha dato 20 milioni di euro. E sa perché usava la società che si chiamava Aria? Perché l'8 febbraio il commissario straordinario Bertolaso della Lombardia ha tolto alle poste che ce l'avevano la piattaforma per la vaccinazione da prenotarsi in Lombardia e l'ha data a Aria, nonostante che il 7 febbraio, cioè il giorno prima, Aria avesse scritto una lettera dicendo guardate noi non siamo pronti. Noi non siamo in grado. Sì, infatti, diciamo Alessandro, Milan, siccome tu sei a Milano, sei lombardo, insomma non ha fatto molto bene, la Lombardia ha recuperato i danni dei mesi passati? Siamo partiti male, per usare un eufemismo. Adesso diciamo che si sta marciando più speditamente. Io ho 50 anni e dal 30 aprile vi risulta che si passerà anche ai 50 anni, quindi tra poco potrò anch'io pensare di prenotare la vaccinazione, quindi sicuramente sono state fatte degli errori, sono stati, spero, sistemati e adesso devo dire che il ritmo è decisamente più spedito. Si potrà ovviamente anche indagare, vedere quali errori siano stati fatti, alcuni sono stati ben spiegati anche da inchieste, da articoli di giornali. Io adesso sono abbastanza fiducioso perché ho visto che c'è stato un cambio di passo, certo, nelle ultime due settimane. Senta, De Luca, lei intanto è vaccinato? Allora sì, no, io mi vaccino il 27 di aprile. Faccio due osservazioni. Due osservazioni. Aspetta che le aggiungo allora anche un'altra domanda. Intanto si è sentito ascoltato dalla politica ed è favorevole ai concerti con soli vaccinati, persone che hanno fatto il vaccino? Allora, il discorso a questo punto si fa lungo, in ogni caso. No, sia breve. Per ciò che riguarda Draghi, la sua calma, non ho dubbio, ricordiamo che Draghi è la persona che in un passato estremamente recente ha salvato l'euro e l'Europa, quindi con un pugno assolutamente forte, quindi manterrà la calma. Per ciò che riguarda la Lombardia, sì, io non mi sono rivolto alle poste, mi sono rivolto direttamente alla regione Lombardia qualche giorno fa e ho avuto l'appuntamento appunto per il 27 di aprile. Concordo che l'inizio è stato veramente faragginoso e molto lento, ma mi sembra che adesso le cose stiano andando per il verso migliore. Per ciò che riguarda l'essere ascoltato dalla politica, vede, la nostra musica viene chiamata musica leggera. Io trovo una definizione assolutamente sbagliata, perché la definisco musica pesante, non leggera, la definisco musica pesante per diverse ragioni, almeno per due ragioni. La prima ragione è perché è da lavorare a centinaia di miliardi di persone. La seconda ragione è perché crea una ricaduta sul territorio, o su qualsiasi territorio a Samada, di milioni di euro. Faccio un esempio, due esempi. Un festival di Firenze, si chiama Firenze Rocks, nell'ultima edizione ha creato una ricaduta sul territorio di oltre 40 milioni di euro. Sono denari importanti che arrivano gratuitamente alla città. È un indotto importante. Però, scusi, vi potrebbe aiutare il fatto di mandare ai concerti o di avere ai concerti solo persone vaccinate? Sì, assolutamente sì. Io credo che questo è quello che avverrà poi nel 2022. Anche perché così... Possiamo dire una cosa. Visto che il governo è così giusto a questa osservazione, che visto che il governo ha già previsto in realtà la cosiddetta carta verde per il transito interregionale, ponendo tre condizioni, vaccino oppure un tampone di 48 ore per avere questa carta. Oppure guarito dal Covid. Oppure guarito dal Covid. Bene, ma allora il passo successivo per venire incontro ai lavoratori del mondo dello spettacolo e a tutti gli altri è creare questo passaporto, creare questa possibilità di certificazione per tutte le attività che uno vuole fare. Vuole andare a un concerto o immune o vaccinato o con il tampone. E anche Galli, che forse, prendiamolo come epitome del chiusurismo più spietato, ha detto che questa gli sembra una proposta di buonsenso. È un meccanismo premiale, favorisce la vaccinazione e favorisce la fruizione degli spettacoli e di tutte le attività culturali. Sposo al 100% questa tesi. E quindi dobbiamo avere tutti la patente vaccinale, vero? Sia Milan che Boralevi, rapidissimi. Beh, direi assolutamente di sì. Così si sensibilizza anche la gente ad andare a vaccinarsi, no? È una strada assolutamente giusta. Bisogna ovviamente, e lo diciamo per l'ennesima volta, accelerare le vaccinazioni. Perché io vorrei andare a vederlo a un concerto, però il vaccino me lo devono fare, perché altrimenti diventa una discriminazione. Sì, un tampone, un tampone. Però, insomma, meglio il vaccino. Il tampone è un Apple Aroid che dice che non ce l'avevi 42 ore fa, ma potresti avercelo adesso. Il vaccino invece dice che sei protetto per quanto? Per otto mesi. Ecco un'altra cosa che la propaganda non dice. Dovremo vaccinarci tutti gli anni, cioè 52 milioni di italiani, perché otto milioni hanno meno che 18 anni, dovranno ogni anno vaccinarsi contro il Covid. Ecco, Antonella Boralevi, è vero. Boralevi ci fusticherà per altri tre anni. Questo ne siamo convinti. Per questo ci basta il vaccino. Ecco, io direi facciamo un passo alla volta. Intanto vacciniamoci la prima volta. Poi seguiremo le indicazioni, spero, degli esperti, dei medici, degli scienziati. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché parlavamo del mondo della cultura e dello spettacolo. Ma quanto ha perso? Tantissimo. Ce lo ricorda anche Pagliaro nel suo punto. Guardate. Dal punto di vista economico, il conto del Covid lo sta pagando un terzo degli italiani, quelli che non possono contare su uno stipendio fisso o una pensione. Di questa minoranza sempre meno silenziosa fanno parte i lavoratori dell'industria culturale e creativa, settore che in Europa, dice un rapporto di Ernst & Young, ha sull'economia un impatto maggiore rispetto ad agricoltura, tessile, telecomunicazioni, aerospaziale, chimica, prodotti farmaceutici, beni high-tech. Nei paesi dell'Unione cultura e intrattenimento avevano incassato nell'ultimo anno pre-Covid il 2019, oltre 640 miliardi, producendo valore aggiunto, cioè ricchezza, per oltre 250 miliardi. Di tutto questo è rimasto poco o nulla. In Italia, a causa delle chiusure anticontagio, è stato cancellato il lavoro di quel milione di persone che in tempi normali consentono alle altre di andare al cinema, a teatro, a un concerto, a una mostra, in una discoteca, in un museo o allo stadio. Qualche artista, qualche star, ma soprattutto un esercito di lavoratori atipici e precari. Particolarmente colpite sono state la musica e lo spettacolo dal vivo. Secondo le stime di Asso Musica, nel 2020 hanno visto svanire il 97% del loro fatturato. Ha perso il lavoro il 95% degli addetti, si è salvato solo quel 5% che lavora per le televisioni. Il danno sociale non è quantificabile, considerato l'indotto di un concerto o di un grande evento sportivo, è enorme anche quello economico. Allora, grazie, grazie Antonella Boralevi, grazie Roberto De Luca, grazie Alessandro Milan, grazie Luca Telese, ricordo il tuo nuovo libro, Cuori Campioni, pubblicato da Solferino, eccolo qua. Grazie spettatrici e spettatori, vi lascio ai programmi della rete e noi come sempre ci vediamo lunedì 26 aprile, giorno di riaperture, 8 e mezzo. Arrivederci. Grazie.